salve a tutti io sono contento di essere oggi con voi per darvi i risultati della riga calcio italiana del giorno 6 1 2020 allora il titolo dell'edizione di oggi del programma studio sport se ho i risultati della riga calcio italiana della giornata 18 della 18esima giornata oggi vi do i risultati delle partite della riga calcio italiana che sono giocati oggi il 6 il 6 1 2020 allora io comincio a darvi i risultati di queste partite Bologna Fiorentina 1 1 Milan Sampdoria 0 0 Juventus Cagliari 4 0 io ripeto per un'altra volta Bologna Fiorentina 1 1 Milan Sampdoria 0 0 Juventus Cagliari 4 a 0 adesso che vi ho dato i risultati di queste partite io vi do i risultati delle altre partite che sono rimasti e che sono giocati oggi il 6 1 2 milioni e vedi adesso pulisco la lavagna e vi do gli altri risultati grazie a tutti 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 grazie a tutti